Fermiamoli, fermiamoli, fermiamoli Allora Fermiamo lì Intervistiamo un gruppo di passanti Passiamo, non ci possiamo fermare Non possiamo dire nulla, non possiamo dire nulla No, noi non possiamo dire niente Non possiamo dire nulla Non possiamo dire nulla, mi dispiace Dai, stai fermo Molte informazioni abbiamo adesso intervistato Se volete c'è Natascia Due persone che ci hanno Non dire nulla, non dire nulla delle nostre informazioni per adesso Molte informazioni che forse ci stanno aiutando sul caso Li faremo sapere a posto Adesso andiamo a intervistare un altro uomo Che ce l'avrete dietro le vostre spalle Ce l'avrete, minchia Posso dire? Da Rovenga è tutto, a vostro studio Grazie mille